Gossipitavip, se lo sussurra, lo svegliamo. La tragica notizia è arrivata come un fulmine a cielo sereno, Roberta Capua, con un cuore affranto, ha rilasciato un commovente saluto, ciao mamma. L'annuncio rivela la dolorosa perdita di Marisa Iossa, figura leggendaria di Miss Italia, essendo stata incoronata reginetta nel 1959 sotto la guida di Enzo Mirigliani. Questo titolo avrebbe un seguito straordinario, poiché la figlia, Roberta Capua, vinse lo stesso concorso nel 1986. La finale del 59, a Ischia con 34 partecipanti, fu un evento epocale giudicato da personalità come Eleonora Ruffo e Link Shaw. Marisa, alta 1,74m, si distinse nelle selezioni di Selva di Val Gardena. Accompagnata dalla madre greca Anna Vasdechi, la sua bellezza naturale. senza trucchi e finte, catturò l'attenzione. Vinse un milione di lire e una vespa offerta dalla Piaggio. Marisa Iossa, protagonista indimenticabile di quella edizione, avrebbe condiviso il palcoscenico con la figlia 27 anni dopo, un evento senza precedenti a Miss Italia.